Sono spuntate questa notte delle strane sculture di legno che hanno invaso il centro storico di Faenza. Solo pochi indizi che ci hanno fatto arrivare a una spiegazione su cosa o meglio chi siano. Un cartello è raffigurante le sculture con la scritta Salesiane 2.0 e il fatto che siano tutte direzionate verso il neoristrutturato complesso degli ex Salesiani. Forse abbiamo capito. Sono degli uomini, addirittura una sessantina, costruiti con delle assi di legno chiaro che camminano verso la struttura fresca di ristrutturazione. Gli ideatori, probabilmente la Fondazione Banca del Monte, Cassa di Risparmio e realizzatori, designer o architetti locali vogliono mantenere per ora l'effetto sorpresa. Ma queste strutture partono esattamente da via Paolo Costa e arrivano proprio ai Salesiani. Intanto i feintini si interrogano sul significato di queste strane strutture quasi aliene che popolano da stanotte il centro feintino. Grazie. 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 Grazie.